In Libia un'emergenza? Libia è una situazione molto preoccupante, anche gli ultimi avvenimenti non aiutano. Avremo una riunione, l'ho scordato, il 2 dicembre a livello del Consiglio di Sicurezza qui a Roma con gli altri ministri, anche per capire possibili emergenze anche estive di vario tipo, le informazioni da tutto il sud del Mediterraneo sono preoccupanti.